Cento anni fa nasceva Primo Levi, uno dei più lucidi testimoni dell'orrore dei campi di sterminio nazisti e uno degli scrittori più alti e sensibili del nostro Novecento. Le sue parole, ha detto il capo dello Stato Mattarella, sono divenute un insegnamento per donne e uomini incamminati sulla strada della democrazia, dell'uguaglianza dei diritti, della convivenza tra le religioni. I servizi di Enza e Mirafesta e di Giovanni Battista Tomassini. Io sono ritornato con l'impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere. Scrivere era sempre stato un bisogno profondo per Primo Levi, lo aveva fatto persino nel lager di nascosto pur sapendo di correre rischi enormi. Per questo quando tornò a casa, scampato miracolosamente agli orrori di Auschwitz, scrisse se questo è un uomo. Un racconto lucido, preciso, senza sbavature, ma non fu capito. Levi non si arrese, nove anni dopo ne pubblicò una nuova stessura. Questa volta fu un successo. La memoria è un dovere, lo è per tutti gli uomini in quanto tali e lo è in specie per noi che abbiamo avuto la sventura, ma in certo modo anche l'avventura di vivere esperienze fondamentali. Testimoniare l'imperativo che anima anche la tregua, il racconto del ritorno di Levi da Auschwitz a Torino, vincitore del premio Campiello. Come fa un uomo normale, si chiedeva Levi, a trasformarsi in un crudele aguzzino? Perché? Interrogativi che tornano pressanti anche nei sommersi e i salvati. Ultima sua opera. Quel sistema distrugge l'umanità in chi lo esercita e in chi lo subisce in ugual misura. La stessa disumanizzazione che noi subivamo perché imposta la vedevamo avvenire in chi si custodiva. La forza con cui tuttora ci colpisce il racconto che Primo Levi fa degli orrori dei Lager scaturisce da una lingua esatta, da uno stile misurato, da una visione lucida. Per questo Levi fu più che un testimone. Levi è uno scrittore prima di tutto. Se non fosse uno scrittore la forza del suo messaggio, ma anche la capacità di farsi leggere dai lettori non sarebbe così forte. Uno scrittore che disponeva di una grande varietà di registri espressivi. Primo Levi è un memorialista, è un narratore, è anche un aforista, è un poeta, è un saggista, quindi ha molte facce. E anche dentro l'elemento narrativo le sue tastiere vanno dal comico, perché è anche un umorista per alcuni tratti, al tragico. Fino al 1975 Levi lavorò come chimico in un'industria di vernice a settimo torinese e con sprezzatura tutta sabauda si professò sempre un tecnico prestato alla letteratura. Da questa esperienza nacquero per esempio l'affascinante connubio di scienza e narrativa del sistema periodico e lo splendido inno alla dignità del lavoro della chiave a stella, opere che forse oggi possono rappresentare il più invitante punto di accesso all'universo di quello che è stato uno dei maggiori scrittori italiani del Novecento.